Picerno che quando non è in possesso si ricompatta a inizio match nella propria metà campo palla per Van de Putt che riesce di testa a toccarla su Biasci che scarica l'indietro su Vasquez che non ci può arrivare, ci arriva in maniera perfetta, pulita con il sinistro Sounas che fa 2 a 0 primo gol in maglia giallorossa per l'ex Perugia Dimitro Sounas azione perfetta, capolavoro, palla scaricata da manuale del calcio il raddoppio del Catanzaro al 42esimo minuto del primo tempo il solito cambio gioco da destra a sinistra, bravo Van de Putt con la testa a toccare il pallone per Biasci che è riuscito a scappar via, poi intelligente il tocco all'altezza del dischetto là dove Vasquez era in precario equilibrio a differenza di Sounas che aveva quell'angolo libero da colpire con il sinistro